Prosegue a Valle Croasa la raccolta solidale di materiale scolastico per aiutare le famiglie in difficoltà. La cosa che volevamo fare come Lions e soprattutto il gruppo Lions di Bordicherotto Luoghi è quello di ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato questa possibilità di portare avanti questo service dello zaino sospeso che è stato per noi veramente una grande sorpresa vedere la partecipazione dei cittadini e volevamo solo ancora dire alla cittadinanza che questo service va avanti fino al 5 di ottobre e si concluderà con una raccolta anche di zaini usati o anche astucci usati comunque in buono stato e la raccolta la faremo nei giardini di Borsillino e Falcone qui nel centro di Valle Croasia quindi li aspettiamo per concludere questo con altri soci questa bellissima iniziativa e sempre ancora ringraziando l'amministrazione comunale che ci ha permesso questo service. Abbiamo fatto un giro per vedere l'adesione e con sorpresa abbiamo visto che senza sorpresa devo dire perché Valle Croasia è sempre molto presente nella parte diciamo della solidarietà però dicevo con sorpresa abbiamo trovato tanto materiale che andremo poi a ritirare e dare ai servizi sociali dove le assistenti sociali sanno già a chi darlo perché abbiamo comunque un elenco nutrito di persone che sono veramente in difficoltà soprattutto per quanto riguarda magari gli zaini gli astucci e quindi anche questa iniziativa ulteriore di raccogliere anche materiale usato però chiaramente in buono stato può essere un ulteriore aiuto che viene dato alle persone che ne hanno bisogno ringrazio veramente il service del Lions perché comunque come sempre vanno a dare delle risposte in diciamo contesti dove veramente la necessità è evidente in più colgo l'occasione appunto per dire che ancora fino al 5 ottobre c'è la possibilità di fare delle donazioni servirebbero un po' di matite penne gomme anche cose piccole però utili e comunque sono indispensabili nel materiale da portare a scuola quindi ringrazio veramente chi è aderito e chi aderirà